sta iniziando ok siamo in live buongiorno mondo stamattina voglio potenziare il casco visto che ce l'ho già lì da un po e mi voglio dedicare a questo evito cioè se capita di aumentare di potere ok però però adesso mi dedicherò a quello e mi sono messo in mano un fucile a pompa che era un po che non utilizzavo e quindi voglio provarlo intanto devo andare a far spesa ecco qua e quindi si parte tanto controllo anche la pagina se funziona proprio provarlo sto fucile ne ho parlato ieri mi è venuto in mente ho detto cavolo è un po che non lo uso allora l'ho preso l'ho potenziato al pari di quello che avevo e adesso lo vado a provare intanto anche una taglia devo provare le armi cinetiche sui nemici l'ideale ok ecco questo è il fucile non mi ricordo neanche come l'ho lasciato impostato lo proviamo allora intanto devo andare a lui se sbrigo subito le faccende qua ma mia potevano metterlo più vicino eh vai ok facciamo un affare allora tieni magnifico e due e poi cerchiamo di vincerli gli altri allora va bene le taglie mentre sono qui le prendo andiamo nella zona adesso magari sulla terra dai prendiamola questa qua sette giorni adesso se ah si la prendo poi al massimo chissene può fare comodo visto che c'è il materiale che ci serve qua eh figurati il veicolo facciamo andare un po' ah già qua non si può sparare ok vediamolo un po' oh lo ricordavo meglio però va bene dai può fare attenzione al grilletto perchè va a ripetizione spreco colpi dov'è? ah no non è l'uso allora devo darmi una svegliata un po' ok si ci sta ci sta ci sta si può usare di qua cos'ho? andere a proposito fuggiamolo subito benissimo ok un'arma per i tiri lunghi una per i tiri corti anche se sono senza munizioni adesso se ne mangia le munizioni eh il fucile allora forse è per quello che lo usavo di si può usare si può usare chi è che vuoi fare? ah sei tu? ok vediamolo qui se c'è qualcosa la munizione la munizione benissimo no vabbè iniziamo a scavare allora vediamo quanti no buongiorno buongiorno a chiunque sia a due ok stamattina voglio sviluppare il casco però mi si va ancora un po' e niente andiamo ma non arrivava l'evento no ah si dove sei? ah no sono senza munizioni che palle non so sentite sto collaudando sto fucile ma si mangia troppi colpi sono sempre senza colpi con la quella cinetica e però devo fare una taglia di quella devo usare quel fucile lì cioè più che quel fucile lì un'arma cinetica avrei fatto prima con il mitra volevo provarlo che era un po' che non lo usavo questo fucile adesso mi sto ricordando perché ah 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 dove sei? affacciati dai andiamo da lontano no mai più dai ma sta questo evento fammi toccare la bandierina così vedo il tempo ancora due minuti c'è nessuno c'è nessuno c'è nessuno potevo fare la zona segreta lì mentre che aspettavo vabbè si si è paradosso perfetto questo qua si vinceva si vinceva di una missione se non ricordo male è uno dei pochi pompa che uso trentino non mi piace tanto come stile di gioco quindi volevo solo riprovarlo perché ieri ne ho parlato ho detto ma mi è tornata la voglia di provarlo però a parte il fatto che appunto non sono abituato non mi sto trovando tanto bene mangia troppi colpi soprattutto io che sbaglio a tenere premuto fa raffica e ne tiene anche pochissimi dovrei mettere qualche cosa che mi aumenta magari la la quantità di munizioni dei pompa usandoli poco e sotto quattro sono sopra un minuto all'evento dove si nasconde a sì ho presente qual è non mi ricordo se ce l'ho dovremmo devo guardare sì nella torre quello che è è bellino anche quello ce n'è armi belle di marte parecchie c'era mi sembra una missione anche da fare con una pistola o con un cannone portatile non mi è mai piaciuto tantissimo quel cannone portatile però vedo che lo usano in tanti ok ok 10 secondi avviciniamoci arriva eh sì quella pistola lì è vero adesso che mi ha detto il nome mi è tornato in mente facciamo io una sorpresa ah già che bisogna buttare prima giù quelli piccoli dove sono? adesso mi ha fatto entrare ok 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 una volta la siamo riusciti qualcuno la gli ha fatto qualcosa per catturarlo questo non so come succede ma ho ancora capito perchè sono un uomo della zona dei rinnegati perchè non ho il DLC ho ancora capito com'è che sono riusciti a catturarlo ok ah vediamo se l'ho fatta se ne serve il materiale no manca poco ha stufato sto fusile però allora ti dico vado a fare dov'era la zona eccola lì dov'è già tanto devo fare la taglia sparare a chiunque la giacca è questa ok dai non mi perdo è vero che mi sto cercando anche dei guardi tutti questo mitra finchè non mi fa la taglia è vero che mi sta cercando anche dei guardi posto no c'è ancora uno qua sotto ok dovrebbe averla fatta non ci ho fatto caso però ho preso sì ok forse adesso dovrei averne abbastanza vediamo se riesco a iniziare a potenziare un po' questo ok allora cosa mi chiede me ne mancano ancora prisma ottimizzante ah è la roba che vende l'armaiolo dove cavolo devo andare adesso ah già proseguiamo bene bene ma cosa mi sono aggrappato ah quello forse è 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 Sì è vero è bellissimo questo settore La prima volta che ci sono entrato Sono rimasto spiazzato Mi sembrava quasi il bar di Guerra Stellare Con tutti questi alieni dentro È stato veramente bello Forse è il più bel settore perduto Di tutti Come sorpresa eh per dio Poi magari c'è anche meglio come Adesso non me li ricordo Tutti a memoria però Questo mi ha sorpreso veramente tanto Quando sono entrato sono rimasto a bocca aperta Guarda lì ecco cosa fanno Quando non rompono le palle questi Ah eri trasparente tu Sì se ti prendessi Ah sei duro Posto E paparelli Oh E' una pallina Ok Dovrebbe essere concluso Intanto ho fatto la taglia Però mi manca Pensavo di più Serviva Me ne servivano di più Di quegli affari Pensavo di averne Comprato i due Di aver fatto Che mi bastavano Invece non avevo contatto giusto Quindi Allora Uccire da recognazione Ma mi sa che non ce l'ho dietro Sì Qualche culo Ce l'ho lì da consumare Lo tenevo da pa Meno male Allora mettiamo Vediamo che non faccia cagare Ah no aspetta Vediamo se c'è un evento In giro Quello lì Su no niente Ok Altra taglia Altro materiale Dov'era sto coso Eh sì Fammi mettere L'attacca Non conosco ancora bene Le strade qua Quindi mi perdo subito Ed è capace Che mi lancio nel vuoto Con la storia Guarda Ah già Devo mettere lo spettro giusto Per sto posto Dai Questo Ok Cavolo solo Mamma mia Si vede che non lo conosco Il posto Ok Ho bel po' di gente Così sarà pure semplice Magari farlo diventare eroico Anche perché Non so cosa arriva E non mi ricordo Come si fanno Quelli eroici qua Cresoro Pattuglia Tutto comodo Dov'è? Eccola lì Questa si fa da sola Praticamente I miei nemici Continuano a infestare La riva Tu C'è la soluzione E' batteriale lì Ma si Prendiamolo No è sparito già Che palle Sono arrivato tali Vai giù Non si è buttato Ma c'è qualcosa Là sotto Guarda Ho detto Era suicida I sensori Indicano Una vietitrice Di entere Attiva Presso la nostra Posizione Ehm Cavolo Loro Sprecata Ah Sti cosi qua Forse bisogna Buttare giù Aspetta Mi prendere Il metro Ah no Già che c'ho sto coso Devo fare anche la taglia Cavolo Mi stavo dimenticando Io Faccio prendere dal gioco Mi dimentico Fa schifo Penso di sì No ma guarda che roba Gli fa le carecce Sto fucile Che sfiga Eh vabbè Eh guarda dopo I perk Che ha sto fucile L'ho messo e basta Senza guardarlo E vabbè Credo che Bisognerà distruggere Quelle palline lì Per farlo eroico Ma mi sa che Siamo già al finale Sei Come hai detto Allora Recuperiamo il tutto E che spara ancora Allora Un attimo Ah vedi Mi sembrava Che faceva esplodere Però C'era qualcosa Bene Sì Tanto c'è Lentissimo Eh vabbò Non sto anche a fargli niente Chissene Questa 14 Ok Teniamola Materiale Eh devo tenere l'altra in mano Per forza È vero Vediamo Un altro evento Eh La giù Buono Magari ci arriviamo in tempo Ok Ok da giù Ah Ha già sgusciato fuori lui Eh Darno glielo fa Ah no Non era lui La mia Quanto era mi piace Questo fucile Ok Speriamo che l'ha fatta Già No mai più No mai più Veramente Perché Perché quando si è fucile orrendo Me ne regalasse magari un altro La ricognizione No eh Ah no era la pistola Guarda qua Eh vabbè Mi stanno menando intanto Dov'è Ah là sotto Eh vabbè Sì Non mi piace Non mi piace il suono Non mi piace come aggancio il bersaglio Non mi piace il rateo di fuoco Non mi piace niente di sto fucile Meno male Almeno i nemici Non mi mancano Per fare la taglia Guardalo Chi è che mi spara da lato Guardalo Nell'anetto Sì Sì S'ho messo proprio in mezzo Un piccolo villaggio di Cabal Tutti insieme Com'è strano sto pianeta Sta zona Mamma mia Tre colpi per bustarlo su Vabbè Muoviamoci un po' in giro Guarda che non l'ho buttato giù Dove sei? Niente Al volo Non li prendo Faccio le carezze Eh dai Sì Meno male Via sta porcheria Guardi se approfittavano Allora Me ne manca solo più una Vediamo cos'è già Pirla Potevo guardare prima Allora Cos'è? Fucile a fusione lineare Anche questo non ce l'ho Sai che l'ho posato l'altro giorno Proprio Ce l'avevo qua Sì Difatti Ma che palle Eh amen Non posso far niente Se non me lo caga Attorno alla torre Questa la voglio tenere Mi piace Voglio svilupparla Sì a questo Facciamo un po' di spazio Schifo Ah già Questo 12 13 Via Ok Spostiamoci sull'altro pianeta Ah sulla terra È vero Abbiamo preso la taglia Vediamo se lo vecchiamo Iniziamo qua Ah torno subito Vado a bere un goccio d'acqua Vado a bere un po' di spazio eccomi di nuovo allora non è ancora arrivato ah ok è vero qua c'era l'evento ok intanto voglio capire dove si trova questo personaggio da scatturare no cosa mi ha fatto dettagli in arrivo per alcuni materiali che mi renderanno il lavoro più facile cosa c'è ma c'è ma c'è palle c'era la pattuglia qua vicino allora vabbè eh no dov'è 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 questa vabbè lo metto segui vediamo se poi lo fa vedere vabbè iniziamo con l'evento magari è nascosto anche in qualche buco ho individuato un'altra spedizione mineraria dei cabal guardiano sai già cosa fare ok per fortuna c'è anche altra gente ma mo che è gratuito sarà difficile trovarsi da soli meno male alla fine è un gioco strutturato per farlo in compagnia va che è andata bene è andata no ok se resistiamo il veicolo di estrazione sarà nostro fai come credi mi fido di te allora la navicella no non c'è ancora ora si sono raggruppati vabbè lo faccio dopo la pattuglia eccola eccola vieni qui no l'ho mancato stamattina non c'è la via ok c'è anche il cane ah no solo uno teniamo tutte le palline ehi devrin indovina i cabal hanno perso tutto e intendo proprio tutto hai devastato il loro morale ancora una volta amabile ok dieci disti pezzi per sbaglio l'ho presa sta pattuglia vai dovrei fare in fretta intanto recupero un po' di materiali che ci arrivano sempre no ok tutti me li danno meno male vai riqua voilà ok fatta che cavolo è che mi spara oh allora cerchiamo di capire devo andare a cercare sto tizio e tirano le bombe ah no ma no ma no ma reso allora non mi ricordo chi è è lo stronzo che mi spara vabbè non so se andare a fare non mi ricordo proprio che cavolo è sto drag vabbè mi sposto qua intanto che hanno rotto queste bombe drag drag oh ah è solo cavall qua e mai non ci sono di solito i caduti facciamo un giro della zona ma non mi ricordo c'è Drag è uno di quelli che ha a che fare con la forgia ah vi siete nascosti adesso no questo si cambia il fucile comunque vabbè allora andiamo forse no non so se mi viene in mente di andare in un posto di quelli lì nascosti tipo dove per cavolo è un settore perduto però non mi ricordo quale oh senti dai fastidio questi colpi allora a questo punto mi butto in questo e amen chissene dell'evento tanto rilevo uno skiff equipaggiato di attrezzatura mineraria puoi pensarci tu ah forse proprio forse è il settore perduto dove ci sono cabale ecco deve essere questo dove si si scontrano con i caduti forse il capo che c'è laggiù no no facciamo un po' di polizia poi controllo aspetta forse è lui si ricercato guardalo là vedi mi sembrava però non ero certo di quale posto fosse dove si trovava l'entrata questo mi sembra che ne ha due di entrate ecco ecco bravo è sulla bob già morto però stavolta allora intanto no dove sono finito ok no andava meglio la pistola al posto del fucine però va bene dove sei ok no una taggia cosa c'entra taggia mi ha dato vedi mi ha confuso sta taggia andatemi dai guardate mi sono andato a incastrarmi c**o allora fammi se lo capire perché questa pensavo solo negli assalti vabbè eeeh questa no vabbè devo aprire ancora magari oh magari è ancora vivo è sembrato che devo morire ma confuso completamente vedere comparire la taglia degli assalti dove sei ah sei ancora vivo un amichetto giallo anche tieni omaggio ok 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 vedetti lasciatemi in pace ormai tanto vi ho fregato il capo quindi fedeli fino alla fine no allora oh non mi ricordo vediamo un attimo sto taggia è possibile che era un altro ho beccato un altro lui cercato per sbaglio ok ok tu non sono certo vado in un altro settore perduto a sto punto io dove non so un po' a caso vado qui che ce n'è due o tre allora allora farmi ricontrollare Il problema. Il chef è equipaggiato di attrezzatura mineraria. Puoi pensarci tu? Che non sia da queste parti. Vai di bene in su. Il divoratore. Che cavolo può essere? Sì, è di qua. Sì, è di qua. Che cavolo sarà il divoratore? Non è lui. Non è felice. Non sei duro. Vabbè. Vabbè. E non era lui. Non passo? No. Mi confondo già con altri giochi. Allora. Boh, a questo punto non so dove cavolo andare a cercarlo. Ma qui l'ho altri due già di settore. Questa è il prossimo. cavolo. Avessi una memoria più buona. va beh, anche con meno informazione di meno vedo i giochi dentro. Magari me lo ricorderei. C'è nessuno? Dove sei? Dove sei? Non mi ricordo neanche come sono fatti queste zone. Non mi ricordo neanche come sono fatti queste zone. Vieni qua. Vieni qua. Ah, scappi. Ah, scappi. Ah, scappi. Boh. Il prossimo. Guarda qua. Faccio in fretta. Però non... Sì. Sono presente proprio di chi sia, se è un cabalo, un... un babuino. Non lo so. Cavolo. Ah, pensi sia un cabal. Allora andiamo. Proviamoci. Grazie per l'aiuto. Perché sono proprio... Perso ne... Non... Andiamo. da qui. Faccio prima... Non ho proprio presente chi sia questo. Non me lo ricordo. Stavo scendo dalla mappa Ah deve caricare Allora qua i settori perduti Allora mi sembra che ce n'è uno dentro E uno fuori Ah ok uno ce l'ho qua L'altro no Ah no si ce n'è anche uno qua giù Ok allora sarà quello sotto Andiamo a vedere Se non ricordo male Dovrebbe essere Là sotto Ah buio più totale non ci vedo niente Dai ridami la luce Ah eccolo qua Mi appido alla tua esperienza Dovrebbe essere questo Se non sbaglio La fossa C'è nessuno Normale che non l'ho colpito Ora che stiamo scobando Ora che stiamo scobando Grazie a tutti. Grazie a tutti. Devo sfoltire un po' di gente. Dove sei? Stanno tutti nascosti qua dietro. Che palle se avevo la pistola col fuoco. Ancora. Allora, non era lui il forza. Adesso guardo però. Ah, basta. Allora. No. Dark il decoratore. Proviamo gli altri. Non mi dice proprio niente il nome. Ah, cosa c'è? Cosa succede? Ah, non c'era. No. Un attimo così vi leggo. Ah, è che se lo ricordava. Fa vedere un attimo quello della mappa. Ho letto adesso. Allora. Aspetta, però come si chiama? Oh, vediamo. Dove cavolo può essere? Dove cavolo può essere? Sì. Ok. Trovato. Alleluia. Stamattina, mamma mia. Sarà la pioggia. Sarà il cielo grigio. Dov'è? Ok, là sotto. Ok. C'è che non ho messo neanche... Cavolo. Lo spettro giusto. Dov'è? Ok. Andiamo a cercarlo. Divoratore? Sarà grasso? Se c'è questo soprannome. E' ancora vivo? Eh sì. Pochi colpi con sto fucile e tanti morti. Allora. Andiamo a vedere. Di qua. Cosa di striscio. Due cani di merda. Come sono finiti? Li ho perse di vista. Sei tu, vero? Guardalo lì. Merda. Merda. Dai, le munizioni. Dai, giù. Eh no! Mi sono messo davanti l'ostacolo mentre premevo il grilletto. Che pirla. Un suicidio. Allora. C'erano quei cani. Come sei? Dove sei? Affacciati. Ok. Allora, guardiamo un attimo la taglia. Miracolo stamattina. Bene, bene. Quello che serviva anche. E poi questa che è mai più. Se non me lo regala un fucile così. Io uso molto poco. Quindi non ne ho potenziato nessuno. Praticamente. Vabbè, togliamo questa. No, teniamola per adesso. Le metto. Vediamo un attimo. Ah già, devo andare a comprare quella roba. Eh, allora devo andare sulla torre a vedere cosa mi chiede. No, me lo ricordo anche quello. Forza. Non è decide? Eh. Perfetto. Barba. Quā. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, giornata proprio da letto. Vediamo un attimo. Devo prendere il materiale lì. Non so cosa ci va. Bene. Ah, due. Il seme... dov'è che si prende già? Ah, su Mercurio, mamma mia, quanto lo odio quel pianeta. A questo punto prendo il fucile a fusione così faccio anche l'altra. Il fucile a fusione lineare? Questo? No. Piccato. Laser. Quelli che mi piacciono non vanno bene. Non dimenticherò mai i nostri calutini. Qua. Ne ho pochissimi, non li uso. Questo? Vediamo se ho per potenziarlo. A parte che chi se ne potrei anche evitare, dato che lo uso poco. Non lo spreco, non lo spreco il modulo. Allora, sulla Terra usarlo. Anzi, cambio pianeta. Secondo. Ah, già, c'è anche quello del ferro. Mi sembrava che ci fosse un mercante in più. Allora, andiamo su... Ah, è su Mercurio. Così faccio anche un po' di semi, visto che ne ho sempre pochi. Non mi piace tanto questo pianeta, allora lo frequento poco. Proprio non sono riuscito a digerirlo, questo pianeta. Da quando è uscito non mi è piaciuto. Oh, si sta avvicinando anche l'ora di pranzo, meno male. Mi riattivo dopo mangiato, almeno. Allora. Ho la mira a parabola oggi. Come vai? A un secondo. A un secondo. Allora. 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 Ok, vado subito a prendere gli incarichi qua, poi fucile lineare e questo è fuori completamente. Ok, adesso mi butterà giù il potere però mettendo queste armi, allora devo mettere questa e questa, ok anche del fuoco. Meno mare, poi qui abbiamo una pattuglia così facciamo più materiale possibile senza perderci troppo su sto pianeta. I trepoli credono in un uomo che non hanno mai visto. Demostragli perché i guardiani sono più degni della loro devozione. Ok, sono già senza evoluzione. Dov'eri? Posto? Ah già, devo mettere lo spettro così recupero ancora più materiale. Faccio prima più che altro. Ok, questo è inconfondibile. Eccolo lì. Lo scrigno. E' già abbastorato, come vai? Bene, le punizioni. Niente punizioni. Niente punizioni. Dove sei? Eh, se li prendeva tutte e due. Allora, là sopra c'è altro materiale. Noi. Eh, mai più. Eh, già che qua non si può usare la storia. Che culo, tutte e due. Dov'è? Dov'è? Là. Eh, è un po' fiacca come puntata quella di fare un pezzo. Però mi serve, mi serve. Devo potenziare sto cavolo di... Di... Dov'è? Ah no, niente, vi farò vedere quello. Lo metto. Quindi... Mi tocca. Mi tocca venire anche su Mercurio. Cavolo. Ah già che non... Ok, bene. Cambiamo un po' automatico. Portarmi qualcos'altro, tipo... Eh, ma già troppe armi. Poi non... Non ho spazio. Su, datemi le munizioni pesanti. Lo dormiva nell'angolino. Allora... Allora... Vediamo laggiù. Qui c'era. Oh, ma c'è entrato al che bene. Non hai detto che spreco. Questi fanno proprio da bersaglio. Bravo. L'evento va... No vabbè ma chi se ne frega se mi serve caricare almeno. Dove sei? Ok. Eh, dammi le munizioni pesanti però eh. È il bravo. No. Sarebbe comodo avere qualche potenziamento che fornisce le munizioni pesanti in questo caso. Niente. Ah, però. Il frutto. Il frutto di metallo. Allora, i maledetti Vex hanno trasformato anche i frutti. Niente. Niente munizioni. No. Ah, il tesoro. Bene. Non è che una munizione. Niente. Buonamente Vex ha rivolti i suoi pensieri verso il nostro presente. Vediamo questa armatura. Allora. Qua 15, vabbè, 14, 13, via. 12, via. Intorno gli sparavo. Allora. C'è qualcuno che la sta facendo? Uno solo? Andiamo a vedere. Sì, forte. Affidati a Osirite e distruggi gli eretici. E già che ci sei, anche i Vex. è fuori questo. Nel primo dava meno l'impressione. Non era così pazzo almeno. Non sembrava. Ma prima di là? Boh. Vabbè, ma chi se ne tanto... Mi servono solo le munizioni. Niente. Bene. Vediamo un po' questa. Bene. Poi... Sì, ma è vero. Penso che chiedo a guardare le munizioni pesanti. Non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, ma... Non c'è. Non c'è, ma... Non c'è... Sì, non c'è. ok non lo fa andiamo a vedere ora mi cagasse una munizione decente vai questa attività perlomeno è un po' più varia quello bisogna riconoscerlo a questo pianeta ok Sì Almeno questo è comodo per spostarsi Ok andiamo a beccare quello grosso Ah è peak E' un giorno potresti essere all'altezza di osiriti in persona Ok E sono sempre senza munizioni pesanti Mamma mia Però non ce n'è no? C'è nell'angolino No Vabbè continuiamo allora Sì qua sotto No Sì 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 eh si altro materiale maledetti dove l'hanno messo qualcuno mi cacherà prima o poi le munizioni pesanti tu no cavolo nessuno aleluya allora si tutte e tre con un colpo che culo vediamo a che punto sono continuo a darmele così le munizioni no no eh se io le sbaglio pure ok Grazie a tutti. Mi sembra affatto apposta. Già non mi piace il pianeta. In più non mi dà le munizioni. Mamma mia. Al comprare un oggetto cosa... Ok. Solo due. Eh, con lui è sprecata. Lo sapevo. Ah, meglio. Eppure è a 7.50 quel fucile lì, quindi... Eh, avrei dovuto tenermelo quel colpo. Ah, ma meno male. Ancora uno. Oddio, se va rilento questa taglia. Mamma mia. Vabbè. Perché mi son messo in testa di sviluppare il casco? Oh, alleluia. No. No. sono di nuovo senza spariti? no dai più munizioni non posso neanche spostarmi con la storia su questo pianeta l'odio con tutto me stesso niente c'è uno screamer ok almeno i materiali poi non mancano per un po' così non ci devo più tornare per un po' su sto pianeta facciamo un altro giro dove sei? ti ho sentito era già malandato dai ma neanche tu me le dai le munizioni pesanti pesanti dobbiamo spostarci con questo magari facciamo prima si nello stretto però inguidabile no no per carità ok niente niente c'è qualche altro sfortunato che sa girare su sto pianeta nel primo c'erano dei delle cose potevi comprartele delle munizioni avrebbe fatto veramente comodo adesso dove cazzo sei come hai detto niente facciamo un po' di vex allora oh magari lui si bravo più un punto bene ok adesso sarò più basso avendo delle armi e delle balle che cavolo ah maledetti guarda che botta che mi ha dato no oh 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 avanti il prossimo è proprio un po' lenta sta puntata è partita lenta, continuerà lenta e finirà lenta, ragazzi, è così però devo farlo sto casco, non c'è più niente no? ok, peccato vabbè, evoluzione leggera beccasti per sbaglio qualcun altro anche no? faccio prima ancora un colpo adesso uno come si arriva già là? ah, da sopra, eh vabbè ci rinvovo l'evento un evento so, mamma mia che triste questo è il pianeta ormai non possono neanche più tolto potrebbero allargarlo, inventarsi qualcosa aggiungere pollo fritto, non lo so dai, datemi munizioni pesanti non ci rinvovo l'evento forse quello lì qua? qualcuno? manco per sì, poi tiro anche le bombe a casa non continuo a girare intorno mamma mia basta, dai non commento più neanche forse qua? è stato generoso prima me la date vediamo dai, bravissimo ancora sti due colpi poi vedo quanto a che punto siamo dove sei? ok allora, vediamo questa musica che non finisce mai arabbeggiante ok, allora meno male ok, grado stagionale ok, grado stagionale non sbaglio ora cosa ha regalato ah, niente questa volta una mente vexa ha rivolti i suoi pensieri verso il nostro presente vabbè, c'era l'armatura siamo appesi a un filo fra passato e presente preparazione e trionfo vediamo vediamo fare ancora magari questa ok però devo mettermi delle armi decenti in mano tanto non mi serve più adesso quella lineare dov'è? allora per carità ridammi il mio coso ok 12 13 12 via mettiamo questo qua 14 14 bene questa la togliamo che fa schifo orribile cavolo ho già mezzogiorno e mezza ok facciamo a pezzi quelli bastardo si è finito ecco le linee palline ok aspettiamo che si gira ah già tanto questo si carica da solo bellissimo ok a mezza la palla ah no la risposta è no a mezza Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non succede mai che mi rianimano. Grazie a tutti. Ma come è stato fatto? Pensavo che eravamo in di più a occuparcene. Grazie a tutti. Oh, ma mi serviva... Non mi ricordo se c'era qualcosa da sparare. No? No. Vabbè, forse va fatto di là. Vabbè, facciamolo. Tanto non c'è la tempo. Vabbè, facciamolo. Se non c'essero altri guardiani come te, forse potremmo svelare tutti i misteri dei Vex. Ok, almeno altro materiale e via adesso. Allora, intanto... Andiamo a guardare qua. Ah no, è vero. Torre. E via. Poi devo andare a mangiare pure io. Vediamo se riesco almeno. Già è venuta un po' lenta come puntata questo giro per fare sto casco. Ah, già, intanto fammi fare così. Questa. Vabbè, colpi di grazia ovunque. Ah no, su io. Vabbè, colpi di grazia ovunque. Sviluppando il casco Aumento anche la disciplina e aumento la velocità della ricarica delle mine. Le bombe, sì, delle mine. Così faccio... Perché è un po' troppo lento. C'è voluta una mattinata. Però... Dovrei averla fatta. No, vabbè, dipende da cosa mi chiede ancora per l'ultimo... Da aggiungere, cosa vuole. Su. Ok, andiamo a prendere il pezzo. Ottima prova là fuori. Dieci me ne servono, cavolo. Sarà lunghissima sta cosa. Eh, vabbè, la farò con calma. Questo cos'è già? Ancora giorno, niente. Sempre allerta. Eh, va bene ragazzi, vado a mangiare. Si ferma qua. Grazie per essere rimasti, anche se è stata una puntata lentissima e inconclusiva, tra l'altro. E quindi, niente, vi saluto. Ciao e grazie a tutti. Grazie a tutti.